Secondo lei il governo italiano ha fatto tutto quello che poteva fare? Sì, continua a fare tutto quello che c'è da fare, augurandoci ovviamente che presto questa soluzione avvenga e avvenga in tempi rapidi e positivamente. Qual è l'intoppo ultimo? Noi stiamo attendendo ovviamente la deposizione delle indagini, quindi stiamo aspettando. Quando si è ovviamente verificato uno sviluppo perché i quattro militari sono stati interrogati, adesso aspettiamo questa deposizione. Signora Vatorre, quando ha sentito suo marito l'ultima volta? Il mio compagno. Noi ci sentiamo quotidianamente, abbiamo la possibilità di interloquire senza problemi. Cosa le racconta di sé e del suo commilitone? I ragazzi sono comunque sereni, nonostante il tempo li abbia provati, però siamo tutti sereni e speriamo che presto si possa advenire ad una soluzione. Questa iniziativa a Roma è volta a dimostrare solidarietà nei confronti dei ragazzi, a far sentire che comunque è sempre vivo l'affetto da parte dei loro concittadini, compatrioti e quant'altro, e che comunque tutti quanti sono fieri ed orgogliosi di loro, così come lo siamo noi familiari. Grazie.